ciao a tutti e bentornati sul mio canale questo è un altro video di detersivi o comunque prodotti per la casa terminati non so io ne termino tantissimi e poi non vedo l'ora di buttarle via perché come dicevo anche nell'altro video sono parecchi ingombranti quindi partirei subito e vi mostro che cosa ha terminato allora finito questo gel per lavastoviglie profumo al limone della svelto e ho scoperto eccolo qui proprio recentemente che preferisco i detersivi liquidi per la lavatrice piuttosto che le pastiglie e questo della svelto devo dire che mi è piaciuto parecchio ho notato che comunque è anche c'è scritto che efficace con anche i cicli brevi bottiglie di plastica reciclabile e questo qua devo dire che è stato un ottimo acquisto c'è scritto svelto tutto in uno powered by nature ecco vedete si vede un po ma ecco questo mi è piaciuto veramente tanto poi ho terminato questo sgrassatore disinfettante della lisoform elimina il grasso ostinato buono mi è piaciuto questo qua della lisoform qui c'è scritto presidio medico chirurgico disinfettante antibatterico l'ho utilizzato tantissimo per qualsiasi superficie sia in bagno che in cucina per le superfici in generale e questo era un pochino diciamo profumato al limone quindi un buon prodotto adesso ne sto usando un'altra marca ma anche quella molto valida poi ho terminato la mia candeggina preferita è questa acce denso blu più efficace senza schizzi questa per il bucato per quando devo togliere quindi le macchie dai capi o da qualsiasi insomma anche dagli asciugamani dalle strofinacci della cucina e questa quella densa blu mi piace parecchio ne ho fatta scorta mi ricordo che ne avevo prese due o tre confezioni infatti ne ho ancora forse uno o due in casa poi ho finito questo per la lavatrice questo ammorbidente in formato risparmio di coccolina ammorbidente è concentrato aria di primavera eccolo qua questo qui in anche in plastica quindi meno consumo di plastica vedete però devo dire che questo ammorbidente a livello di profumazione non mi è piaciuto per niente certo rimasta un po delusa nel senso che non sentivo la profumazione e non lo so come mai sono rimasta un po così infatti questo qua o questa tipologia appunto di ammorbidente credo proprio che non lo ricomprerò di solito col coccolino mi sono sempre trovata bene magari ecco non con questa profumazione però non lo so sono rimasta un po così smorfiata poi ho finito allora questo a sciogli calcare della smac express eccolo qua buono devo dire che è valido anche se io preferisco il via cal la propria marca via cal secondo me è la migliore e questo sì mi è piaciuto per il calcare per niente da dire però preferisco sinceramente il via cal poi ho terminato ancora ecco per la lavatrice questo ammorbidente fabuloso ammorbidente concentrato ipoallergenico questo qua nella profumazione quello per pelli sensibili quello che è di colore bianco latte e la profumazione buona sicuramente meglio dell'altro quindi quel coccolino che ho usato mi sono trovata bene la profumazione molto delicata non è persistente non è forte e devo dire che è un buon ammorbidente ogni tanto mi capita di comperarlo però non è il mio preferito però ogni tanto capita poi ho terminato sempre per la lavatrice queste di xan duo caps 30 capsule alla lavanda queste qui sì mi sono piaciute profumazione di lavanda io sinceramente non l'ho sentita in questo caso l'avevo presa apposta perché era in offerta prendiamo quella la lavanda non l'ho sentita molto però comunque un prodotto che di xan mi piace quindi mi è piaciuto se dovesse trovarlo in offerta perché costano parecchio sicuramente lo ricomprerò però devo dire che non mi è dispiaciuto poi di xan di solito poi ho terminato questo disinfettante lava pavimento della bacterio eccolo qua vedete questo qui anche questo c'era scritto quindi batterio presidio medico elimina il 99,9 per cento dei batteri e funghi buono mi è piaciuto dava un senso di pulito alla casa la profumazione non era gradevole si proprio classica di disinfettante però devo dire valido valido come prodotto e come ultimo prodotto per la casa ho terminato con dispiacere questa candela profumata che avevo preso insieme al vedete finita al kit di boom boom brasilian quella crema corpo brasiliana buonissima che ha una profumazione è dolce però non è così fastidiosa e poi una volta messa sul corpo lascia la pelle morbida e la profumazione poi svanisce non è così persistente così poi io non ne metto tantissima e questa candela che aveva la sua stessa profumazione è stata veramente apprezzata in casa perché è una delle poche candele che una volta accesa si sentiva il profumo in casa ottima peccato che era piccola ed è già terminata pazienza io per il momento ho finito scusate ho finito i prodotti per la casa di questo periodo diciamo dalla metà di marzo in poi e niente io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video buona giornata a tutti